Grazie a tutti. ...e di più simboleggio. Abbiamo scelto questo progetto, provo a aumentare i grandi spazi di libertà, i bambini... ...e alcune palestrine di libertà in modo professionale. Per questo i bambini hanno prescriciato, hanno adescorato colori, formando sia colori sia in variazione. I colori, poi i bambini hanno capito che tutto ciò che c'è intorno è colore. Infatti il colore è il sentimento. In una parola solo possiamo dire che comunicazione ha lo stato puro. Questo progetto tra i bambini sono divertiti tantissimo. E' stato molto, per noi, ci sono tanti impegnati, diciamo. Sia per il materiale, perché il materiale è pochissimo per la direzione, proprio non ce l'hanno meno di voi. E abbiamo dovuto fare tante portate. Prima di noi, prima che facciamo uscire i colori, i bambini che rappresentano i colori, si esibiranno le lingue inglese, quelle che hanno fatto il nostro lingue inglese.